Bella a tutti ragazzi in questo nuovo video di Sonno dei Bomber e oggi ragazzi siamo nelle Bedwars Sì ragazzi siamo proprio nelle Bedwars Ci sta un botto le Bedwars In questo periodo E ho già anche la pala di Gun Madonna raga Sono riuscito a prendermi tutto Aspetta che mi prendo anche faccio un super acquisto Così vediamo come faranno a togliergli la protezione Ho una marea di roba Questa pozione di saltare Certo Non è strana proprio per niente Vabbè ragazzi ci siamo Siamo pronti abbiamo già Pala di Gun con Ripple e Flame 2 Questa ce la teniamo per dopo Se casomai perdiamo il let Ci prendiamo questa Anche la pozione di saltare Il resto invece ci servirà A molto Vabbè ragazzi siamo pronti Con la nostra Iper mega super ultra difesa Dai ci siamo Quasi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 8 8 5 6 8 9 10 12 12 13 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 19 19 19 20 22 21 23 23 24 23 24 24 25 25 26 26 26 secondo me più vantaggiati che cacchio mi fai così e hanno già rotto il letto ai rossi i gialli che cacchio fai le immagini tu minchia adesso vado a spaccare i gialli perché sono quelli secondo me più aggressivi quindi sarà meglio che appena avrò tutte le robe potrò andare all'attacco ma che fate così capri i rossi sono già morti perfetto il blu continuano a cadere nel vuoto e loro stanno ballando non so perché forse c'è qualche problema ragazzi vediamo se forse nel prossimo video riuscirò a portarvi una prova non ridere challenge se la volete scrivetemi nei commenti e scrivete hashtag prova non ridere vi lascerò il cuoricino vi saluterò nel prossimo video cioè nella prova non ridere e per sicuro che io non sono molto bravo anzi faccio abbastanza schifo in queste prove il giallo intanto sta andando a spaccare anche i blu anche i blu mi manca il 76 quindi il 4 78 79 80 ragazzi siamo pronti a prendere una marea di blocchi e andare all'attacco dei dei gialli che sono rimasti in due a posto siamo messi proprio bene messi benissimo scusate ragazzi ma devo sostare un attimo la webcam ecco qua la rimetto qui ragazzi ci sono andiamo proviamo o almeno a salire qui sopra no 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 non voglio cascare non riusciamo a salire ecco ho trovato come salire intanto bardiamo qui dobbiamo un po' bardare perché veramente se no siamo messi male ecco l'acqua tolta tolta l'acqua tolta l'acqua siamo rimasti in 3 contro 2 e adesso vado mi alzo un botto tipo così basta si e andiamo all'attacco dei gialli no Simone zitto sto facendo un video scusate mio fratello ma sta parlando fai dillo quando è finito quando è finito gioco noi giochiamo zitto noi giochiamo zitto vai di là adesso scusate mio fratello che sta continuando a parlare un chiacchierone proprio anche a te noio no andata diretta andiamo ragazzi noi siamo pronti ad andare all'attacco i gialli non se lo aspetteranno mai secondo me che io arrivi da solo spaccami dammi questo no ti ho detto dammelo dammi qua ecco qua facciamo il giro del cosa e andiamo sul muro ovviamente perché andiamo 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 verso i gialli che non si aspetteranno mai e ne arrivo non se lo aspetteranno mai appena li butterò là ha failato sediamente vediamo cosa fa boom ciao vediamo come farà se io mi alzo ancora di più ha quitato è rimasto da solo ragazzi è rimasto da solo io sono salito più in alto possibile 0 o mg ha quitato quindi mi ha ciccato di nuovo seriamente e stavolta ho sbagliato io arrivo pian pianino andiamo 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 veloci 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 vedi che sto stack basta andiamo 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 prima che compri le fireball che se ti può comprare i fireball io sono fottuto ma tanto fottuto tipo da 1 a 1.000 e 2.000 vai sono atterrato vediamo cosa fa vediamo voglio proprio vedere cosa fa questo giallino ok io io mi metto qui e lui non sa mica che io sono qua ha provato a colpirmi là tipo la mia amica ha preso se quitta anche lui e ne vado eh si 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 vediamo come mi prendi che io sono all'angolo e fa loro a prendermi io no vado no 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 sono morto vabbè ragazzi ci posso tranquillamente riprovare tanto adesso ho la mia spada la pozione del salto non posso non fare nulla Esci, beviti sta pozione, no, eccomi qui, sto arrivando. Arrivando non se l'aspetterà mai. Arrivando non se l'aspetterà mai. E un mi piace, guardatemi qua, c'è ragazzo, lasciate un commento e un mi piace e ci dici ciao gente.